Salve a tutti fratelli e sorelle, Dio vi benedica, sia salutato il nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria. Eccoci qua in un nuovo messaggio presunto di oggi nella trasmissione Messaggi e profezie. Andiamo a leggere il messaggio di oggi. E il messaggio di oggi è proprio questo, che viene da Edson Glauber, come vedete, che dice 30 marzo 2020, figlio mio, prega molto, fai pregare, perché la preghiera può cambiare tutto nel mondo. Prega il pastore, il grande pastore, e qui come vedete dice il vero pastore, qui dice Edson, almeno dalla citazione, presto Dio accetterà il suo ultimo sacrificio per il bene della Santa Chiesa e delle pecore. Come disse mio figlio Gesù, il buon pastore è colui che dà le vite per le pecore. Tre sante intercedono davanti al trono di mio figlio, sostenendo il pastore nel suo sacrificio, Santa Gemma Galgani, Santa Catarina da Siena e Santa Veronica Giuliani. Queste tre sante vengono, tengono, scusate, per ordine divino le mie richieste e quelle di San Giuseppe davanti al Signore. Chiedano tutti la loro intercessione e Dio presto darà all'umanità un'altra possibilità e le vostre lacrime di dolore saranno cambiate, le vostre lacrime di dolore, scusate, saranno cambiate le lacrime di gioia. Pregate e abbiate fiducia. Quindi, come avete visto, da questo ultimo messaggio che arriva da Edson Glauber, quindi dice questo, bisogna pregare molto, fratelli e sorelle, noi cerchiamo in questo piccolo canale di pregare, di portare alla preghiera. Lo dice nel messaggio presunto, pregate, perché la preghiera può cambiare tutto nel mondo. E qui si parla, e questo è un mistero, qui dice prega per il pastore, il grande pastore, il vero pastore, nota, qui dice, di Edson, no? Mettiamola nelle preghiere, cari fratelli e sorelle, mettiamola nelle preghiere, questo è un mistero, cari fratelli e sorelle, vedremo quello che cosa succederà, perché dice presto Dio accetterà il suo ultimo sacrificio per il bene della Santa Chiesa e delle pecore. Quello che ci interessa, cari fratelli e sorelle, è capire che la preghiera è la cosa più importante, perché con la preghiera si cambia il mondo. Attenzione, è quello il punto che ci dice Gesù, pregate, i cenacoli di preghiera, sono quelle le cose più importanti da fare. E dice il buon pastore è colui che dà la vita per le pecore, chiaramente. E vedete che ci sono tre sante, dice, no? Che intercentono davanti al trono di mio figlio, Santa Caterina da Siena, Santa Gemma Calgani e Santa Veronica Giuliani. Stiamo facendo la novena di Santa Gemma Giuliani. E queste insieme a San Giuseppe. Quindi vedete che la preghiera deve arrivare forte al trono di Dio. A noi non ci interessa il finto, il vero, questo mistero, lasciamola a Dio. Quello che conta a noi, ce lo dice, è di pregare, perché dice chiedano tutti la loro intercessione a Dio. Presto darà all'umanità un'altra possibilità. Le vostre lacrime di dolore saranno cambiate in lacrime di gioia. Pregate e abbiate fiducia, perché con la preghiera si risolve la situazione. Non con le chiacchiere e voler capire a tutti i costi il mistero. Il mistero non conta nulla, perché lo dice all'inizio del messaggio, presunto chiaramente. prega molto e fai pregare, perché la preghiera può cambiare tutto nel mondo. Il punto centrale del messaggio è proprio questo. Prega molto e fai pregare, perché la preghiera può cambiare tutto nel mondo. Quindi preghiamo, rimaniamo con Gesù e andiamo avanti nella preghiera incessante verso il Signore. Santa Gemma Galgani, Santa Caterina da Siena e Santa Veronica Giuliani pregate per noi e per il mondo intero, compreso San Giuseppe prega per noi e per il mondo intero e preghiamo per la Santa Chiesa e chiaramente e tutti i sacerdoti. Dio vi benedica sia lodato il nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria.